Giovedì 13 agosto, San Ponziano. È il 225 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 140 al termine. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 20.25. La luna si leva alle 5.05 e tramonta alle 19.28. Dal Consiglio dei Dieci viene decretato che alcuna persona di che grado, età e condizione esser si voglia debardire né presumere per sé o per interposta persona, offendere né far offendere, ingiuriare, molestare in modo vero uno alcun ebreo o ebrea, essendo intollerabili le moleste e gli insulti, tanto in parole quanto i fatti, per modo che in alcuna maniera non siano gli stessi ebrei perturbati nella libertà, sicurezza e averi. Le previsioni per domani. Tempo inizialmente stabile, soleggiato dal pomeriggio, moderato aumento della nuvolosità irregolare, alternate e schierite. Precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Dalla serata a notte non si esclude qualche locale rovescio temporale, con probabilità bassa. Temperature stazionari o un leggero calo. Temperature stazionari o un leggero calo.